Musica Avete scoperto il colpevole dell'attentato? Attentato? Come potete affermarlo con tanta sicurezza? Avete fatto delle indagini? Avete delle prove contro quegli uomini? Quelli sono ostaggi. Per loro le prove non servono. Ho il diritto di interrogarli. Fate pure. Sapete niente voi? Avete visto nessuno da queste parti? Cercate di ricordarvi bene. Basta un particolare, un'informazione e possiamo fermarli. Ci conoscete a tutti. Se sapessimo qualche cosa a voi lo diremmo. Ma a che c'entriamo noi? Cercate di convincere i brigadier. Toll control. Aspetta.